dipende quando viene fuori dal sasso lo sto già riprendendo quando sparisce va è sparito adesso ho tirato un terzo day one il secondo drone è andato la tricamera è a posto ha fatto sabbia nei motori vorrei un commento a caldo due parole un po' così 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 faccio passare a manito un po' così 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 un po' così